Mario fa il barbecue come in canadà. No, sto dicendo alla cosa. Tu sai fare il barbecue? Hai fatto qualche volta? No. Ci dobbiamo affidare? Non già lo fare per metterlo così? Ah sì, c'è un altro. C'è là, c'è là. No, non ce l'ho perché a me è più grande. No, no, solo se... Ma è buono questo. Ma è buono questo, ma non è bene proprio. Troppo domani. O io l'ho detto? Ma fatti vedere un pezzettino. Ma io l'ho detto di nuovo. Ma perché la figlia 6 è vicino a te? Ha dato un cammino. Non c'è da casa. Sono qua. Ah, sennò c'è uno qui qua. Io ce l'ho qua. Non c'è più i giorni per venire, sennò non c'è più il cuore. Adesso, se... Potrò fare una settimana... Papia ti faccio. Papia. La faccio vedere. Ma dove c'è stato? Ma dove c'è stato? Eh? Ma dove c'è stato? Sennò tu lo barbecue non fai? Eh? Tu lo barbecue non fai? Ho capito. Eh? Guarda a casa. È strano che non hanno scelto te. Ma tu guarda come è capitato, Zio. Eh, la sopra. Eh? Ah, la sopra. Ah, la sopra. Ah, la sopra. Ah, la sopra. Ma dopo te li mangi? Zemi. Zemi. Zemiglio? Ma dopo te li mangi? Eh? Eh? No, va assaggia. No? Dai! Per vedere se Zio Mario li fa buoni. Eh? 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 No, non.